dunque oggi abbiamo in sospeso ancora la fine dell'esercizio di giovedì scorso che avevo promesso lo vediamo martedì e non vorrei essere venire meno alla parola data e poi iniziamo diciamo così a mettere le basi per il prossimo argomento so che ho un paio di domande che qualcuno mi ha fatto su youtube non ho ancora avuto tempo di rispondere ma lo faccio tranquilli solo che sono delle lenzuole di domande quindi richiedono un po di tempo sul sull'esercizio di giovedì invece su questo secondo caso d'uso ricordatevi era accetta la richiesta di iscrizione chi il partecipante cioè il partecipante contattato invitato accetta la richiesta di iscrizione l'avevamo scelto come esercizio perché era un caso in cui l'interazione veniva iniziata dal sistema non dall'utente quindi avevamo un trigger che faceva partire il caso d'uso stesso e questo è il trigger e ciò che eravamo riusciti a fare giovedì scorso era principalmente elencare lo scenario principale di successo e non avevamo avuto tempo di completarlo facciamo oggi gli scenari alternativi quindi le estensioni al caso d'uso allora ripassiamo cosa succede precedentemente rispetto al caso d'uso un partecipante fa una richiesta di unirsi al team di un altro partecipante il sistema informativo gestisce questa richiesta e nel gestire questa richiesta manda un invito una notifica un avviso a questo partecipante questo partecipante al punto 1 in qualche modo il sistema manda la notifica al partecipante al punto 2 il partecipante avendo ricevuto la notifica va a vedere i dettagli della richiesta chi gli ha chiesto questa cosa il sistema gli mostra questi dettagli e finalmente il partecipante cliccherà su un bottone accetta ok questo è il percorso minimo più veloce il partecipante la prima la prima mossa sta al sistema in questo caso perché abbiamo un trigger esterno la seconda mossa tra partecipanti il quale al punto 2 non può ancora così avevamo deciso insieme giovedì non può ancora dire accetto o rifiuto perché non ha avuto modo di conoscere tutti i dettagli della richiesta perché nell'avviso nella notifica non ci sta tutta la spiegazione il messaggio dell'utente eccetera eccetera quindi l'unica cosa che potrà fare il partecipante a questo punto è dire fammi vedere la richiesta il sistema gliela fa vedere e a quel punto lui accetta ok quali sono i percorsi alternativi a questo scenario allora il punto 1 di nuovo non abbiamo alternative così come ce l'avevamo nell'altro esempio cioè il punto 1 è l'azione che fa partire il caso d'uso l'alternativa è che il caso d'uso non parta ma allora a quel punto siamo fuori da questo caso d'uso non ci interessa quindi diamo per scontato che il primo passo sia stato fatto dal sistema e quindi il sistema ha inviato una notifica al partecipante cosa può succedere in alternativa al punto 2 cioè il caso normale in cui al punto 2 il partecipante clicchi sulla notifica o io qua sono generico quando dico notifica potrebbe essere la notifica sul cellulare potrebbe essere una mail potrebbe essere un sms qualche cosa che però dentro ci abbia un link che gli permette di andare dentro alla pagina con i dettagli quindi il partecipante chiede di vedere i dettagli io me lo immagino come un'azione molto semplice cioè il partecipante seleziona una notifica o clicca su un link che gli è arrivato in qualche modo quindi quell'azione lì non la puoi sbagliare o non la puoi fare in modo diverso cioè o la fai o non la fai o quella notifica la cancelli senza guardarla oppure la selezioni il link nella mail o lo clicchi o non lo clicchi quindi l'unica alternativa che ci vedo al punto 2 è che effettivamente il partecipante non abbia entro un certo lasso di tempo selezionato la risposta cioè un time out in qualche time out lo dobbiamo dare perché altrimenti l'altro partecipante richiedente non può rimanere appeso per 6 giorni in attesa di una risposta quindi in questo caso potremmo avere che il partecipante dopo un certo tempo non ha risposto io non posso dire perché non ha risposto se la notifica per qualche motivo non gli è arrivata se la mail è andata nello spam se gli è arrivata e non la letta se gli è arrivata la cancellata per sbaglio la cancellata perché facendola apposta volontariamente non ho idea perché? perché sono operazioni che l'utente farà il partecipante farà da un'altra parte su un altro sistema informativo sul suo cellulare sul suo sistema di mail ma non essendo scambio di informazioni col mio sistema informativo quello dell'hackathon non ho informazione cioè io ho mandato un messaggio fuori e sto aspettando un'azione dell'utente di risposta se questa azione non mi arriva non so perché magari l'utente in fase di registrazione aveva messo il numero di cellulare sbagliato io gli ho mandato l'SMS e non gli è arrivato ma non potrò mai sapere se non gli è arrivato o gli è arrivato e ha scelto di non selezionarlo io ciò che vedo ricordiamoci che nel caso di uso sono l'osservatore a metà tra l'utente e il sistema quindi non vedo ciò che fa l'utente vedo solo l'informazione che l'utente manda al sistema quindi posso vedere che l'utente ha mandato un'informazione il link famoso ha cliccato sul link cioè ha richiesto quella pagina oppure non l'ha fatto quindi non posso dire il perché io so solo che dopo un certo tempo non ha risposto allora a questo punto come mi comporto dipende potrei avere un comportamento del tipo torno al punto 1 e quindi se dopo un certo tempo il partecipante non ha risposto gli rimando la notifica oppure potrei dire e beh se non ha risposto allora la risposta è no potremmo anche pensare entrambe queste soluzioni cioè io gli mando una notifica una volta magari dopo 24 ore per dire e poi se dopo due giorni non ha risposto allora assumiamo che la risposta sia no allora in questo caso diremo dopo un certo tempo breve allora cosa faccio torna al punto 1 se invece 2B il partecipante dopo un certo tempo più lungo non ha ancora risposto allora in questo caso il caso d'uso termina con fallimento io cerco di tenere il caso d'uso vivo sperando di arrivare a successo però ho una promessa da mantenere la promessa l'avevo scritta qua alla richiesta devo comunque fornire una risposta e questa è una promessa del sistema anche se l'utente non collabora il sistema una risposta la deve fornire l'ho messa come garanzia minima cioè qualunque cosa succeda anche se l'utente è poco collaborativo è antipatico schiaccia il link a caso mi cancella le mail che gli mando io una risposta a chi ha fatto l'invito la devo dare e quindi cerco punto 2A di ricoinvolgere l'utente che non si sia dimostrato sufficientemente attivo e in assenza però rispondo io per lui quindi la presenza di questo punto 2B è collegata alla garanzia minima che voglio riuscire a mantenere allora dal punto 2A non si esce nel senso che il sistema può andare avanti 1, 2A 1, 2A 1, 2A no fino a quando rimaniamo nel tempo breve che non abbiamo definito qual è da qualche parte lo definiremo e poi finalmente il partecipante risponde e quindi si passa al punto 2 e il caso d'uso va avanti oppure si cade in 2B e il caso d'uso si interrompe nel caso in cui siamo riusciti ad arrivare a uscire da questo loop sui punti 2A e 2B il partecipante ha chiesto effettivamente di vedere i dettagli quindi abbiamo fatto il vero passo 2 non una delle sue alternative e quindi ci chiediamo al punto 3 che cosa succede al punto 3 il sistema mostra i dettagli del partecipante richiedente e il messaggio di richiesta offrendo la scelta se no per accettare quindi a questo punto il sistema si vede arrivare un link dall'utente che ha cliccato su un link e si vede arrivare la richiesta di una pagina e il sistema e il sistema con quel link che sarà associato all'utente richiedente deve andare a vedere qual è la richiesta di cui gli aveva appena mandato la notifica e fargli vedere i dettagli di questa richiesta cosa può andare storto o cosa può andare in modo diverso allora in un altro sistema nel nostro potrebbe darsi che quella richiesta sia stata nel frattempo ritirata io faccio una richiesta tu non mi rispondi subito allora io cancello annullo la richiesta che avevo fatto e ne faccio una o qualcun altro sperando che mi risponda prima allora in quel caso è possibile che il link che aveva l'utente nella sua casella di mail non sia più valido nel senso che porti a una richiesta che è scaduta noi questo però qua non ce l'abbiamo nel nostro sistema perché nei nostri casi d'uso non è previsto e nel nostro modello di processo non è previsto che una richiesta fatta venga annullata nel processo fai la richiesta aspetto alla risposta basta quindi ho un modello puramente rigido sequenziale domanda risposta quindi diamo per scontato che una richiesta non diamo per scontato niente l'abbiamo deciso noi quando abbiamo fatto il modello di processo anche se al momento magari non l'abbiamo esplicitato in questi termini a questo livello di dettaglio abbiamo deciso che quando viene fatta una richiesta questa richiesta non può essere annullata può essere solo accettata o rifiutata da parte del ricevente della richiesta e non può essere ritirata o annullata da parte del richiedente è una scelta legittima come tutte quindi vuol dire di conseguenza che una richiesta una volta fatta è sempre valida quindi non può non esiste un caso 3A la richiesta ricevuta è stata ricevuta o perlomeno la richiesta alla quale fai riferimento questo link è stata ritirata dal dal richiedente però pensando a questo esiste un altro caso immaginate di ricevere la notifica via mail apro la mail al sistema di hackathon hai un nuovo invito una nuova richiesta di unice al tuo team apro clicco sul link ah sì sì mi piace accetto oppure rifiuto bene finito poi casini della giornata non mi ricordo più al mattino dopo riapro il computer o il cellulare riguardo la mail ho detto ah c'è una richiesta di hackathon aspetta un attimo che rispondo e riclicco sullo stesso link perché sono scemo io ovviamente perché ce l'avevo già cliccato ieri su quel link di richiesta ma mi sono dimenticato perché magari ne avevo sei non so più a quali ho risposto o a quali non ho risposto allora in questo caso il link c'è ancora quindi il partecipante cliccando su quel link crede di chiedere di vedere dettagli ma in realtà a quella domanda lui ha già risposto e quindi il sistema deve dirgli no guarda questo link non è più valido non posso togliergli la mail della casella di mail dicendo hai già risposto allora toglilo non te lo faccio sparire no se fosse un messaggio che va sulla mia piattaforma perché lui si collega a vedere le sue richieste è ovvio che le richieste a cui ha già risposto non gliela mostro più ma se ho mandato fuori un messaggio del tipo guarda torna sul mio sito a vedere la richiesta e quel messaggio una volta che fuori è fuori se lui lo usa tre volte quando dovrebbe usare una volta sola posso pensare male di lui ma in qualche modo devo comunque reagire bene io se lui fa queste cose strane allora questa è una possibilità effettiva quindi potrebbe essere un 3B scusate un 3A in cui succede che a questa richiesta richiesta era già stata era già stata data stata data scondiamo le parole risposta in precedenza non scrivo ma lui è scemo perché non lo so e quindi il sistema mostra un messaggio di errore e la decisione fornita a suo tempo cioè gli dico a questo avevi già risposto e avevi risposto sì o avevi risposto no a questo punto il caso d'uso termina con fallimento non è questa non è una citazione se invece non siamo in questo caso di una richiesta una domanda già risposta non vedo non riesco di immaginarmi ma voi siete di più quindi magari riuscite a vedere più sfumature ma non riesco io in questo momento a immaginarmi altri casi per cui il passo 3 non dovrebbe svolgersi correttamente la richiesta c'è perché altrimenti non sarebbe partito il passo 1 non può essere cancellata non è già stata richiesta e quindi passiamo al passo 4 in cui il partecipante accetta vuol dire seleziona sì in alternativa il partecipante rifiuta 4A no ma perché oggi mi odio il partecipante rifiuta terminazione con fallimento rifiuta lo scriviamo anche giusto ho due bottoni sì no non è che posso schiacciare su un terzo bottone non c'è quello che potrei fare però è non schiacciare e quindi ho sempre un 4B il partecipante non risponde entro un certo tempo cosa facciamo a questo punto? lui è arrivato fino lì ma poi ha chiuso il computer è andato via ha spento il telefono potremmo ripartire da 1 lui in qualche modo ha dato la volontà di voler rispondere solo che magari è stato interrotto allora gli rimando il link per dire guarda adesso fallo non vedo perché è arrivato fino lì a dire sì no e poi qui ho solo due alternative o torno al punto 1 o dichiaro fallimento però dire sono arrivato fino lì a vedere a un passo dal premere sì non l'ho premuto ma non ho anche premuto no che il sistema dica no in automatico non mi piace tanto abbiamo già un modo per dirlo in automatico cioè non rispondere per un certo tempo più lungo però qua lui ha cercato di rispondere solo che è stato distratto quindi posso tornare al punto 1 il punto 1 mi serve perché dal punto 1 ridò all'utente il link per cui lui può rientrare nel sistema e poi questa volta speriamo rispondere dicevamo che qua nei casi d'uso elenchiamo le informazioni scambiate in questo caso le informazioni tendono ad essere un po' povere nel senso che al punto 1 il sistema manda al partecipante semplicemente un messaggio contenente un link quindi c'è un'informazione sola un link quando il partecipante clicca su quel link di fatto sta passando al sistema un identificativo un numero un codice che identifica la richiesta è un piccolo dato dato che tra l'altro l'utente non deve inserire a mano ma abbiamo già fatto in modo che fosse codificato all'interno di un link l'unico punto in cui effettivamente c'è un'informazione di qualche dimensione scambiata è il punto 3 in cui il sistema a partire dalla richiesta mostra i dettagli del partecipante richiedente e il messaggio che lui ha scritto tutti i dati che abbiamo visto giovedì ci sono nel nostro modello concettuale e poi alla fine qui c'è nel punto 4 c'è un'informazione binare booleana vero o falso quindi quando dico informazione scambiata non vuol dire necessariamente che l'utente deve scrivere un nome un cognome una data un testo si tratta comunque di informazione anche se a volte è molto più sintetica però senza avere quell'informazione quel sì o quel no il sistema non sa come procedere quindi è sempre un'informazione che ti permette di discriminare percorsi diversi o di far evolvere dicevamo lo stato del sistema cioè far sì che quell'utente sia in quel team o non lo sia questo è poi l'effetto del caso duro la richiesta viene accettata e quindi l'utente viene inserito nel team ricordiamoci che nel modello di processo avevamo l'azione in cui l'utente veniva inserito nel team a valle della risposta positiva quindi questo è un pochino se vogliamo il metodo di ragionamento con cui descriviamo questi casi duro secondo questo template poi domani nel laboratorio 7 avrete modo di cimentarvi in un paio di esercizi di questo genere domande? dubbi? a vederlo sembra facile come